Buonasera siamo qui con i componenti degli All Blacks 6 gol e della Longobarda a partire termina 8 a 2 per la Longobarda Andrea Ricci migliori degli All Blacks autori di due gol gli unici due gol per i suoi mentre Sambiase, Sambiase o Lambiase non mi ricordo come Sambiase sostituisce il migliore in campo a Possiglione però non so perché sia Sambiase è qui perché è il mio certo, porcano che vuole parlare io volevo dire che è stata una bella partita, abbiamo giochato molto bene anche se le assenze si sentivano, noi ci stavamo a metti Lorenzo, squalificati liberi, squalificati io per due partite, giustamente, lasciamo correre quei segni e niente, che continuiamo la corsa verso la Coppa e che siamo al primo posto insieme ai varianti che non so che stanno facendo stanno pareggiando in questo momento se stanno pareggiando siamo da subito ok va bene Ricci, due gol, partita persa però gli All Blacks sono ancora in una fase di latarcia stiamo facendo peggio dell'Inter peggio dell'Inter, hai detto tutto insomma dobbiamo migliorare, abbiamo fatto tre punti, siamo entrati a tornare in corsa ecco infatti voi siete ancora in una fase iniziale, le gambe ancora non rispondono bene però siamo tutti a pezzi ho capito, va bene senti Ricci mi vuoi dedicare i gol? no no, non dedico i gol a nessuno perché sono i gol in usi abbiamo perso 8 a 2, che stai Ricci? va bene, allora ringraziamo Ricci e lo lasciamo andare Ricci porca Ricci no scusa, 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 un po' di scusa scusina scusina va bene, ringraziamo Slambiase, Stambiase, tutti quanti e Ricci, ciao ciao